L'insegnamento del nuovo sindaco, i carabinieri, la Fondizia e la Cinamica, tutti i carabinieri qua. Perché che c'è? Perché dopo una settimana chiediamo, signori, noi siamo il primo paese d'Italia che procuratemi l'indipendenza. Indipendente, noi siamo un paese indipendente dall'Italia. Noi riconosciamo il composto, i segretari e le buonari, noi siamo un paese indipendente dall'Italia. Noi siamo un paese indipendente dall'Italia, noi siamo un paese indipendente dall'Italia. E' importante che si vale la parla, bene, o maio fa che si vale la parla. E' una fena, bene, e' una fena, abbiamo il risposto con il caso di problema e non è nuovo. Se c'è la parla che si fa, prendo indipendenza, tiriamo due porti, tiriamo su, e' una fena, e questo è il primo comune veneto che chiama indipendenza. Le tasse che paga i quali comuni, è proprio il federalismo comunale. Le tasse, signori, traciamo il contocorrente di banca, tutto quanto, l'IRPEF, tutto, versetto quanto qua. Ma non è che facciamo questo, allora, vediamo qui, se hai vento, ormai, se non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Allora, quando andiamo sui, dai, io, come loro, da ora, qui, se le buonanze date, di chiara, di bellezza. Ma andiamo su internet, andiamo su Youtube, andiamo da partire, e gli fiamo su acqua, un'altra sui, e lui, a comprare i mobili. Dio presso! Grazie a tutti!